In occasione dell'8 marzo, il Comune d'Isola del Piano focalizza la sua riflessione sulla donna rurale. Questo è il titolo di un ciclo di incontri che verrà affrontato in maniera trasversale con ospiti quali Don Ciotti, l'attivista ambientalista Vandana Sciva, il poeta Franco Arminio e l'orchestra Olimpia. Per noi la donna rurale è un concetto molto, diciamo, che è comunque moderno. Noi guardiamo con rispetto e ammirazione quelle che sono state le donne rurali di un tempo, e però siamo portavoce proprio di un cambiamento, un cambiamento sociale. Infatti le donne che oggi sono attive nei territori dell'entroterra, della costa, insomma le donne che vivono la ruralità, lo fanno in un modo completamente diverso da un tempo. Un ciclo di incontri che sarà dedicato alla memoria di Graziella Bertuccioli e Stefania Gemignani che per anni hanno portato avanti i temi delle politiche di genere in provincia. Due donne incredibili che lavoravano qui in provincia e che hanno reso possibile tante iniziative che sono state fatte dalla provincia, iniziative di genere sulla violenza delle donne, eccetera, e loro ce l'hanno sempre. E ancora oggi, quando facciamo qualche evento, ci chiediamo sempre cosa avrebbe fatto Stefania, come l'avrebbe organizzato Graziella. Ciclo di incontri che durerà fino al 15 ottobre, giornata internazionale della donna rurale, e che si apre l'8 marzo con lo spettacolo teatrale V.agina, proposto dall'attrice forsempronese Giulia Bellucci. Si racconta la donna con tutte le sue sfaccettature, una donna che sa essere madre, una donna che sa essere femminile. Partiamo dal corpo, quindi dall'anatomia, per entrare nella sessualità e poi dare anche qualche perla storica, senza anticipare niente. Questo è uno spettacolo che nasce ispirato dai monologhi della vagina di Evansler. Evansler scrive questo testo alla fine degli anni 90. La prima cosa che mi sono chiesta nel creare lo spettacolo è se ancora oggi fosse necessario, ci fosse un'esigenza di parlare di vagina. Evansler alla fine degli anni 90 lo fa proprio per sfatare dei tabù fortissimi, per farlo senza provare vergogna. Nomina l'innominabile in qualche modo. Oggi in realtà c'è una grande inversione di tendenza rispetto a 20 anni fa, per cui c'è quasi una bulimia di corpi, di sessualità, una gratuità. Ecco, col nostro spettacolo noi vorremmo raccontare il corpo con serenità, dando il nome alle cose per proprio evitare falsi pudori e arrivare a viverci nel modo più giusto. Già sold out lo spettacolo V.agina che si terrà l'8 marzo alle 21 nella chiesa dell'Annunziata d'Isola del Piano, una tematica femminile affrontata con un titolo estremamente diretto. Perché effettivamente una volta che lo spettacolo è stato fatto è stato molto complesso venderlo. Nessuno lo voleva, perché è un po' troppo audace, perché forse è un po' troppo, perché è meglio un po' meno. In realtà questo è quello che mi ha fatto capire che effettivamente ancora le esigenze evidentemente c'è. E anzi, siamo molto fiere. Io ho messo provocatoriamente V.agina perché a fine degli anni 90 era stato censurato il titolo, per cui erano i monologhi della V. Quindi il punto sta proprio a indicare quella censura e ho scoperto successivamente, devo dire, che Agina in qualche accezione significa proprio forza, quindi ci sta come un cappello nuovo.